Il sole sul tento dei palazzi in costruzione, il sole che batte sul campo di pallone, che tarda il polvere che tira lento e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo con le scarpette di gomma dura, dodici anni e il cuore è pieno di paura. Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigori, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti, quanti ne vedrai, di giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da dieci anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Nino capi fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento, visto il cuore dentro alle scarpe e forse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, e trova dall'aria, tirò senza guardare il portiere, la lascia passare. Ma Nino, non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vede dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero sette.